Europa Verde scende in campo al fianco del presidente Stefano Bonacini ed è la coalizione di centro-sinistra con l'obiettivo, in vista della tornata elettorale regionale del prossimo gennaio 2020, di completare una svolta ambientalista nella locomotiva economica d'Italia. Un'emergenza, quella climatica, in cima alla lista dei pensieri della capolista verde Silvia Zamboni che ha presentato una lista, definita uno spaccato della società, composta da sei donne e cinque uomini. Non potevamo che stare nel centro-sinistra perché dalla destra ci separano anni luce, sia per quanto riguarda le politiche ambientali di contrasto del clima, loro sono ancora negazionisti di un'evidenza che ormai è sotto gli occhi di tutti, basti pensare ai chicchi di grandi, nei grossi come Arance o gli alberi abbattuti, i duemila alberi abbattuti nel bosco, nella pineta di Milano Marittima. E poi ci separano naturalmente anche gli approcci alla politica di inclusione, di integrazione degli immigrati. Anzi, noi pensiamo che oltre ad occuparsi degli immigrati bisognerebbe occuparsi anche dei giovani che lasciano il nostro paese perché qui non trovano opportunità di lavoro. Noi lo vogliamo fare, lo vogliamo fare per esempio con la transizione energetica, la transizione ecologica, quindi puntando sull'economia verde. Se oggi abbiamo il 15% dell'agricoltura biologica in Emilia Romagna, il 15% della superficie agricola è perché i verdi fin dagli anni 80 hanno operato in questa direzione. Io stesso, quando ero in Consiglio regionale, ho fatto provare la prima legge nel 94 per l'agricoltura biologica. Se oggi abbiamo ad esempio un'attenzione alle energie rinnovabili, noi proponiamo che tutta la riviera adriatica venga infrastrutturata con energia solare ed eolica, è perché i verdi fin da allora si erano battuti ad esempio contro la centrale a carbone che volevano costruire a Ravenna che non è mai stata costruita anche grazie alle nostre lotte.